Il governo finalmente è stato formato lasciandosi alle spalle tutti i vinti, prima fra tutti Matteo Salvini, il quale comunque è benintenzionato a fare un'opposizione dura e pura, comunque dopo aver fatto la frittata, così come aveva detto Di Maio quando era iniziata la crisi. Molte parole, anzi fiumi di parole sono state spese per spiegare questa crisi. In testa è stato indicato Enrico Mentana della Sette con i suoi TG, il quale è stato paragonato a una sorta di capo comico della commedia dell'arte per i suoi interventi comici con la Sardone e tutti gli inviati della compagnia di giro. Un paragone che comunque è un po' strano, non è molto indicato, forse perché si vuole fare questo paragone con un parallelo con il Joker, candidato al premio a Leone al Festival di Venezia. Il Joker è il cavaliere oscuro praticamente e il paragone non ci sta. C'è chi dice no, infatti più che al cavaliere oscuro sembra questa comicità di Mentana sembra un po' sulla scia di quella del fedelissimo, dell'ex cavaliere mascherato, Emilio Fede, il quale con i suoi siparietti faceva nel TG4, ricordate Emilio Fede, TG4, la cena dei cretini, il quale era esilarante con i suoi siparietti, con la Senette e con Brosio. Quindi il paragone ci sta, anche a conferma che Enrico Mentana fa parte di quella schiera della serie dei direttori ridicoli. Comunque questo è quanto, i direttori ridicoli, per tutto il resto va bene, per tutto il resto per la crisi per l'approfondimento seguirà la scrittura. E quanto ai direttori ridicoli c'è già un post fra i miei blog e quindi rimanderemo anche a quello.